Ragazzuoli benvenuti in questo nuovo video di Iman, oggi ragazzi siamo qua su Youtubers Live, OMG E si perchè non basta più fare i video nella vita reale, bisogna anche giocare un videogioco dove si fanno i video su Youtube Cioè, mi sembra ovvio Ragazzi io direi subito di partire, nuova partita, cominciamo subito Ehm, ok Ma è una villa esterna al pianeta Terra, che tra l'altro è grande come il pianeta Terra, io non vorrei dire Sono youtuber, ah non ho letto, sono youtuber più popolare, più famoso Gestico un network, gestico, gestisco un network tutto mio occhio E' stato un piangio lungo e difficile, ok Mannaglia che casa, che figo Questa è la mia storia, ok Bello il compiù, questo mi piace, ok Appello dei zii, allora faccio, allora Allora, iniziamo a creare me stesso Proviamoci, proviamoci I capelli più o meno io sono messo così I occhi verdi, io ho gli occhi verdi, non l'avreste mai detto Barba, no, no grazie, non ne voglio O meglio, no, anche no Maglietta, allora io direi, io al momento c'ho una maglietta così Proprio basic, basic, basic Questo oggi infatti andremo a cominciare con una maglietta Facciamo bianca, neutra proprio al massimo Pantaloni, pantaloni mettiamo Mettiamo questi qua Questi mi piacciono, vai Scarpe, che figata Che cosa sono oro queste? Queste dai Occhiali, occhiali purtroppo ragazzi Da due anni che li ho messi più o meno Quindi prendiamo gli occhiali, vai Carnagione, io sono abbastanza chiaro di carnagione Forse così Così ci sta, perfetto Accetta, andiamo avanti Ah, seleziona una personalità Allora, c'è superstar Riccone, socievole, genio, animale della festa e romantico Iniziamo a togliere quelli proprio che non mi ciazzegano Allora, togliamo genio Togliamo socievole Togliamo animale della festa Per chi non lo sapesse ragazzi, sono un ragazzo timido Quindi non sto tanto dietro Ok, oriccone Romantico cos'è? Il tuo sogno è quello di trovare una persona speciale che ti completi E non ti fermerai finché non l'avrai trovata La partnership Ma guarda, io non so se è superstar Superstar cos'è? Sei maestro di video verale Fammi sempre di più Ogni usazione iscritta è importante Questo Vai, vai Eccolo qua Signori Nella versione precedente di Youtubers Live C'è soltanto la possibilità di avere il canale di videogiochi Mentre qua possiamo avere videogiochi, musica, cucina E addirittura anche moda Al momento ne faremo videogiochi Se voi volete un altro tipo Quindi musica, cucina o moda Scrivetemelo sotto nei commenti Lo farò Poi appena finirò questa serie di 5-6 episodi Non so quanto farlo Però vediamo Inserisci il tuo nome Allora Emanuele Perfetto Nome del canale Ovviamente Iman Let's go Sì sicuro Certo Siculo Iman siculo Ok Ho iniziato a fare video in questa stanza Mi ero appena trasferito con mia madre Non avevo molti amici Diamo un'occhiata alle prime cose che ho imparato Prima di diventare lo youtuber numero 1 Eeeh Tra l'altro youtuber Beh bellissimo Facciamo che saltare il tutorial Tanto ci ho già giocato Allora scegliamo un videogioco C'è un videogioco Abbiamo Empire Planet 2 Ok Rating abbastanza alto Facciamo un gameplay Perfetto Una cosa particolare di questo gioco Io ci ho già giocato È molto carino Perché? Perché puoi fare di tutti Cioè è bellissimo Poi anche adesso ci arriviamo a tutto ragazzi Adesso vedrete quanta roba c'è Il mio primo video Ciao mondo Mondo Perfetto Ottimo Dai Let's go Registra 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 Iman del passato Registra Ok Allora I tuoi alleati ti hanno tradito Perché? Vabbè Ottimo Eeeh Critica divertente Tempo fino all'inizio di una partita Commento tecnico Ok Questo ragazzi È un po' il montaggio del video Che dovrebbe essere il video Questo ragazzi è il montaggio del video Che in realtà è una Forse tra i montaggi più Facile che io abbia mai visto in vita mia Perché Praticamente io due tagli Li faccio per magari tre secondi di video Qua per tutto il video Ci sono due tagli Tra l'altro Due ore di rendering E un'ora di upload Porca Eva Quanto dura sto video? 40 minuti Scusami Elabora Desidero pubblicare il video Let's go Oh Grandimento del gioco Oh Andato pure New record 6 Ho fatto Va bene Ok Ottimo 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 Se non sbaglio Noi abbiamo la vita da studente Quindi dobbiamo andare a studiare Un po' ogni tanto Perfetto E noi andremo a studiare Uscendo di casa Giustamente Ma mia mamma non c'è Mia mamma non c'è Ottimo Andata a lavorare pure lei Immagino Ok Ok Uscito il video Sta generando già Un bordello di views 26 C***o 3 40 Un attimo 40 50 views Per il primo video Direi ottimo Noi qua possiamo anche aumentare la velocità Al momento La teniamo Aumentata Si Teniamo aumentata Così ci muoviamo un po' Commenti moderati Così noi possiamo rispondere ai commenti Al momento abbiamo 0 iscritti 0 views Ma si devono anche aggiornare queste qua Che sono tante Vai shopping E ora signori Allora abbiamo PC WarTech Amazon On All console Clothing shop E Idea Che sarebbe Ikea Però ho fatto un po' male Vabbè Io direi di fare Di comprare subito un videogioco Perché subito il videogioco Così ce ne prendiamo uno Bello a posto Bello potente Bello breve Bello bello Ok ce ne è uno uscito il 2 gennaio E il 3 gennaio lo comprerei subito Cioè ma neanche Cioè a posto Compriamo la roba del computer Adesso abbiamo 65 dollari Io direi comprare Magari un microfono nuovo Un microfono nuovo La webcam Che è questa qua Che tra l'altro Uguale alla mia Non ho i soldi Non ho i soldi Mannaya ma che brutto Prendiamo la tastiera Allora ottimo Va bravo Esci accetta Ok Ora bisogna aspettare Che arrivino i pacchi In teoria ci do Ah posso Niente Sto zitto Apriamo i pacchi Abbiamo League of Gigants Cos'era? Vabbè Arrivato il microfono Arrivato anche La nostra Bellissima Tastiera Perfetto Registriamo subito un altro video Come fa a fare 700 views Un video Il primo video Non è normale sta cosa Perché i miei video di adesso Non li fanno Non ci arrivano manco 700 views Minghie Che bello Stujok Farà 2 milioni di views Sto video Ve lo dico io Montiamo il video Oh abbiamo finito Già a posto Mettiamo la roba 12 ore di rendering Ma manco il computer Della nonna Va così lento 12 ore di caricamento E vai Dai 24 ore 24 ore per renderizzare E caricare un video Ottimo Direi che va benissimo Direi che è ottimo Però abbiamo un nuovo Che ho fatto? Ho cliccato su ritira video Io sono un coglione Ok caricato il video Caricato il video Voglio le views Ciao mamma Ok ciao mamma Aspetta un attimo Che stanno facendo Le lammadosca 300 400 500 views E vabbè Mamma lo sai che è un PewDiePie piccola casa Cosa mi sgridi Come os Se non ti metti a studiare Un altro giorno di questi Mi porterò via Il tuo computer E poi non venire A piagnucolare Ma sto diventando Più di Pi Zitta Ok Oh va bene Andiamo a studiare Che se no mia madre Mi ammazza 400 iscritti Che cazzo Come fanno ad essere 36 like e 400 iscritti Me lo spieghi Pum Ah Ah devo arrivare solo a 500 Non a 1000 Ah mingga Allora è più facile Cpm base Un dollaro per 1000 visualizzazioni Grazie mille Oh col prossimo video Inizio a guadagnare qualche soldino Così mia madre è felice Ok andiamo di nuovo a dormire Perché stiamo Dormendo in piedi Praticamente Approfittiamo questo tempo Che deve caricare tutto Per andare a studiare ancora una volta Vai Così siamo a posto Se non sbaglio Qua c'è il telefono Vabbè si Telefono Nokia 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 Ah e qua abbiamo La nostra preparazione all'esame Adesso è qua Adesso andiamo a studiare un'altra volta E dunque dovrebbe arrivare ancora più avanti Se non erro Infatti andiamo più avanti Giusto? Non è vero Però vabbè Ma chi è questa? Oh Buonasera Parla subito Ciao Manuile volevo Un attimo Che sono emozionato Voglio fare un mio video Mentre gioco Ma non ho idea di come registrare le montagne Ti dispiacerebbe farlo tu e pubblicarlo Ti spedirò il gioco Ma certo Ma certo Non mi devi manco pagare O me si si Pagami Non pagarmi coi soldi però Sai tu come pagare A proposito Tra qualche giorno avrò luogo il congresso dei gamer Ah perché gioca pure i videogiochi Sta qua ma dosca Ma che figo Nel quale potrai Non so leggere oggi Nel quale potrai conoscere youtuber E comprare console retro Se vuoi partecipare Puoi acquistare il biglietto direttamente dall'app calendario del cellulare Va bene Va bene Costa 50 dollari Eee Almeno quello Abbiamo i soldi Abbiamo i soldi Abbiamo i big money Abbiamo i soldi Andiamo a prenderci sto biglietto Va fammagno Ok ce l'abbiamo Ok dai Così mi posso comprare le gole Ad ora al games week Ottimo Ah posso giocare i videogiochi Ottimo Nooo che figata Aia Aspetta Ma sono fortissimo No a vedere Ho fatto più di mille punti In teoria dovrebbe darmelo Buonasera vorrei sequistare qualche prodotto Ottieni un punto Ma l'ho appena ottenuto Ma l'ho appena Ma l'ho appena fatto Eh ho appena giocato sto gioco Ho fatto 1700 punti Non mi ha visto Dai regalatemi sta roba Pagherai soltanto 10 dollari Va bene Dattato C'ho già un cazzo prima Se spedo ancora qualcosa Scusi Scusi Io sono famoso Mi deve parpassare Devo parlare con Vabbè vado a casa Ho capito Eccola qui Che cos'è sta roba Oh oh Mi sono divertiti al congresso Emanuele Volevo chiederti Ti va di essere il mio coinquilino L'appartamento ha una camera grande Dove avrai più spazio per fare Ah ma non vieni tu Come non vieni Ok va bene certo Ah condividi Vorrei pagare due mesi di affitto Per avere l'appartamento Sono 160 dollari Quando li avrai preparati Che ci trasferiamo Ma chi è Ecco Aspetta madre Il cazzetone me lo fai tra un attimo Un secondo Attenzione attenzione Eccoli i 50 dollari che arrivano Boom Quella donna che è apparsa Nell'ultimo video E tua madre Non dirmi che sei il cocco Della mamma E che vive ancora con lei Ti prego Certo Ma va a cagare Ma io faccio quello che voglio Hai capito Ma è che sto dietro a te Perché mi dici quello A proposito Aprechi il tuo parentesi Alle persone che mi insultano Su internet Posso neanche parlare Che già si è scassato il pc Ripara Pure 10 dollari Devo dare a sto tizio Vabbè Il voto finale dell'esame C'è mia madre lì Secondo me mi cazza Mi cazza Mi cazza Ah ho preso Mi ha pure dato i soldi Ma cosa Ma che è tutte queste ragazze Che passano in camera mia Non è mai successa sta roba Ragazzi io spero che il video Vi sia piaciuto Se il video vi è piaciuto Mi raccomando Mettete un bel like Commentatevi Iscrivetevi al canale Noi ci vediamo come sempre In un prossimo video In un prossimo episodio Di youtubers life E Ciao ragazzuoli Ciao ragazzi